Ciao portieri, in questo video vi presento il nuovo Soccer Supremo Contact Evolution nella colorazione bianco e blu. Il lattice del palmo è un super soft spesso 3 mm più 3 mm di schiuma ammortizzante. All'interno del guanto dei inserti in silicone impediscono lo scivolamento della mano ma forniscono anche un supporto in fase di presa. Il taglio è un Contact Evolution. Questo particolare taglio rende il guanto molto aderente alla mano bloccando praticamente le dita al suo interno. Il dorso è formato completamente da neoprene e nella zona delle nocche troviamo il sistema 3D Printing Shield per delle respinte di pugno sicure e precise. Arriviamo infine alla chiusura formata da un lungo cinturino elasticizzato che permette una regolazione comoda e precisa. Il Supremo Contact Evolution è un guanto leggero e dal grande comfort. Ha una vestibilità molto aderente quindi vi consiglio di scegliere almeno mezza taglia in più. Il link diretto per acquistarlo è disponibile qui sotto nella descrizione. Vi do appuntamento al prossimo video portieri. Ciao!